Dopo Verona arrivano anche a Pescara i controlli anti-alcol e anti-droga fuori dai locali notturni. Si chiama No Drink to Drive, la campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune, usufruendo in parte di un finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad alcune città campione sul territorio nazionale. Al progetto partecipano Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Misericordia e ASL. La presentazione è stamani da parte del Sindaco, Luigi Albore Mascia, e degli assessori Fiorilli e Renzetti, che hanno sottolineato come l'amministrazione non intenda penalizzare il divertimento notturno, ma promuovere un divertimento sano, tutelando la sicurezza, anche quella sulle strade, nel prevenire gli incidenti provocati da giovani alla guida. Il progetto No Drink to Drive prevede un programma di informazione e sensibilizzazione nelle scuole medie superiori, con un coinvolgimento di insegnanti e alunni e accertamenti clinici da effettuare direttamente in prossimità dei locali notturni, specie nei fine settimana, per incontrare i ragazzi nei luoghi del divertimento. È stato realizzato anche materiale informativo per gli studenti. I primi controlli saranno effettuati il prossimo fine settimana e si concretizzeranno attraverso 16 interventi in strada, ma le azioni principali, come ha sottolineato l'assessore Roberto Renzetti, riguarderanno l'informazione e la sensibilizzazione nelle scuole, piuttosto che la repressione.